Buon lunedì di Pasquetta col meraviglioso gioco del baseball, tornano dunque le MLB Review sul mio canale per l'appuntamento canonico mensile per quanto riguarda il baseball americano. Commentiamo come l'anno scorso l'opening week, sono dieci partite quindi sono valori totalmente indicativi ma comunque qualche segno di interesse c'è stato e non poco. In quella che comunque è una stagione molto importante per il baseball americano in quanto sono state cambiate diverse regole. È stata la stagione del lockout, è stata la stagione che comunque è salvata perché parliamo di 162 partite di regular season ma dobbiamo anche introdurre quelli che sono i nuovi regolamenti e anche i nuovi playoff che sono gli oggetti che hanno cambiato il regolamento sul campo per quanto riguarda il lockout. Poi ci sarebbero tanti anche altri fattori per quanto riguarda l'arbitrato, per quanto riguarda le offerte qualificanti e soprattutto per quanto riguarda gli stipendi minimi garantiti per i giocatori che firmano appunto il minimo salariale per usare un termine della NBA. Dunque prima di addentrarci nella classifica per ogni division andiamo a rifare un recap ulteriore di quelli che sono i nuovi regolamenti confrontandoli anche con quelli degli scorsi anni per chi magari è nuovo e non conosce appieno il gioco del baseball. Partiamo dalla regola più importante quella del battitore disegnato universale che vediamo in questo articolo di MLB.com fino all'anno scorso c'era la distinzione tra le due conference, uso un termine okeystico per semplificare il concetto, l'American League, quella per interesse dove ci sono New York Yankees, Boston Red Sox, Tampa Bay Rays, insomma squadre di un certo livello giocavano con il battitore disegnato, ovvero un giocatore di movimento che sostituiva il lanciatore nel box di battuta, cosa che invece non succedeva nella National League dove appunto i lanciatori andavano a battere e a volte si poteva cadere, si poteva assistere meglio a cose incredibili tipo fuori campo di lanciatori o lanciatori molto capaci in battuta, anche prima che arrivasse Shoai Otani, mi ricordo per esempio Zach Granke, Madison Bang Garner, insomma gente che con la mazza ci sapeva fare oltre che ovviamente lanciare divinamente. Da quest'anno non è più così, per tutelare la salute dei lanciatori è stato introdotto il battitore disegnato anche in National League e di conseguenza abbiamo visto tante altre trade molto importanti che hanno appunto swipato diciamo in quest'ordine, vedi per esempio il grande ritorno di Albert Buchholz, Einstein Lewis Cardinals, Albert Buchholz che peraltro si riterrà al termine della stagione. Questa è stata la prima regola più importante, altra regola di minore importanza ma comunque molto utile è diciamo il limite dei roster. Fino all'anno scorso c'erano 26 giocatori massimo a disposizione per quanto riguarda una squadra di MLB, dall'opening day adesso il limite è aumentato di due unità, dunque da 26 si passa a 28 con punte addirittura di 29 giocatori se si dovessero avere dei double header, double header che peraltro saranno tanto presenti in questa stagione perché ricordiamo che causa lockout la stagione è partita due settimane in avanti, doveva partire a fine marzo, siamo partiti a inizio aprile e appunto per salvare le 162 partite di regular season logicamente ci saranno tanti scontri nella stessa giornata, scontri doppi che non saranno più sui 7 inning ma sui 9 come appunto accadeva negli anni passati in tempo di recupero. Ci sono anche le regole per quanto riguarda gli inning supplementari che per chi non lo sapesse sono di fatto dal decimo in poi in caso nei 9 inning regolamentari le due squadre siano a parità la regola più importante è che viene confermato appunto il corridore in seconda come base di partenza per l'inning supplementare cosa che era presente già nel 2020 in quel caso a causa covid, confermata nel 2021 nella stagione regolare sempre in pandemia e confermata anche nella stagione regolare 2022 un po' per confermare appunto la volontà di velocizzare le partite già ci sono altri archibugi, altri mezzi per velocizzare le partite per esempio il clock, l'orologio che viene messo tra un cambio di battitore e l'altro ci saranno poi altre regole che verranno sperimentate in futuro comunque anche questa è una regola importante da sottolineare quella del corridore in seconda come base di partenza per gli inning supplementari. L'altra regola fondamentale è l'aumento delle squadre che si qualificheranno ai playoff fino all'anno scorso erano 5 per Lega adesso sono 6 viene creato di conseguenza un tabellone tennistico mi verrebbe da dire in base al record accumulato nella regular season il seed numero 1 è chi avrà appunto il miglior record della Lega, al seed numero 2 invece ci sarà il vincitore della division con appunto il secondo miglior record, le prime due squadre avranno un buy direttamente al turno successivo mentre dal ranking numero 3 al seed numero 6 ci saranno appunto degli scontri in questo modo 3 contro 6 e 4 contro 5 comunque al meglio delle tre partite quindi altra novità rispetto all'anno scorso fino all'anno scorso il primo turno di playoff era una partita secca tra le due wild card per ogni conference la partita della morte come la chiamiamo fino all'anno scorso adesso invece ci sarà una partita una serie di partite meglio appunto best of 3 quindi chi vincerà due partite su tre passerà al turno successivo ci sarà lo scontro come dicevamo appunto tra numero 3 contro numero 6 del tabellone e numero 4 contro numero 5 chi vincerà tra questi scontri andrà ad affrontare la numero 1 del tabellone per quanto riguarda la vincitrice tra la numero 4 e la numero 5 e la numero 2 del tabellone per quanto riguarda la numero 3 e la numero 6 questo è stato fatto evidentemente per avvicinare la MLB alle altre leghe professionistiche che è vero hanno ancora playoff a 16 squadre 8 per conference qui si sta lavorando per avvicinarsi sì la MLB è molto tradizionalista in realtà nell'introdurre i cambiamenti e di conseguenza sono piccoli cambiamenti qui e lì già avere comunque 12 squadre è comunque un qualcosa di interessante avete qui appunto un confronto tra i playoff dell'anno scorso e i playoff di quest'anno l'anno scorso furono 5 squadre per Lega Tampa Bay, Houston, Chicago, White Sox, Boston e New York Yankees per l'American League e San Francisco, Milwaukee, Atlanta, Los Angeles e San Luis per la National League a fare i playoff col vecchio format adesso ci spostiamo invece con il nuovo se l'anno scorso avessimo avuto il nuovo format avremmo aggiunto alla contesa i Cincinnati Reds per la National League e i Toronto Blue Jays per l'American League ci sarebbe stato lo scontro Chicago White Sox, Toronto Blue Jays per la Wild Card Series e Atlanta Braves Cincinnati Reds per quanto riguarda la National League uniti insieme al Derby, The Rivalry, Post Red Sox, New York Yankees e Los Angeles Dodgers, San Luis Cardinals per quanto riguarda la National League Tampa Bay, Houston e San Francisco e Milwaukee avrebbero avuto un bye per quanto riguarda il turno dei playoff successivo in base al regolamento che abbiamo visto poco fa è un ampliamento secondo me interessante che rende evidentemente giustizia al fatto che in regular season si giochi sempre su serie e quindi anche i playoff è giusto che siano su più partite anziché magari una partita sola come nel Wild Card Game degli anni scorsi per quanto sia stato un format molto spettacolare finito il recap delle nuove regole passiamo alla classifica tenendo presente che è una classifica parecchio indicativa in quanto si sono giocate 10 partite sulle 162 anche qui per chi non conoscesse il gioco del baseball si giocano 162 partite di regular season 19 sfide vengono giocate all'interno della stessa division 20 sono partite di interlega quindi con squadre tra American League e National League che si sfidano e il resto è tra squadre dell'American League ma non della stessa divisione sono 10 partite qualche cosa però si è vista andiamo comunque a fare il primo recap della stagione peraltro vedendo anche le partite che sono state trasmesse su Sky abbiamo visto in questo caso partite incredibili della American League prevalentemente partiamo però come al solito dall'American League East dove abbiamo i Toronto Blue Jays che sono partiti bene con 6 vinte e 4 perse seguiti dai Boston Red Sox che sono peraltro in striscia aperte 2 vinte consecutive con 5 vinte e 4 perse i New York Yankees sono a bagnomaria a 5 vinte e 5 perse insieme ai Tampa Bay Rays che sono partiti piano fa molto bene Baltimore Orioles per quanto riguarda l'inizio della stagione per quanto siano solo 9 partite ma comunque tra i vinte e 6 perse per una American League East che come al solito sarà un baglio di sangue una divisione molto competitiva con 4 squadre nettamente superiori e con i Baltimore Orioles che comunque sono una squadra vera una squadra che comunque potrà dare del filo da torcere alle altre formazioni abbiamo visto anche i Baltimore Orioles coinvolti in una partita contro Tampa Bay di cui parleremo tra poco American League Central vede una strepitosa partenza dei Chicago White Sox che sono uno dei team favoriti evidentemente ai playoff sicuramente e chissà forse per qualcosa di più in tutta l'American League non dico la squadra più forte della Lega ma ci siamo vicini 6-23 perse per la squadra di Tony La Russa Cleveland che non si chiamano più Indians ma Guardians sono secondi a 4-25 perse ex equo con Detroit seguono i Kansas City Royals con 3-25 perse e ultimi sono i Minnesota Twins con 3-26 perse Minnesota ha cambiato tanto in ottica di rilancio dopo la disattura stagione scorsa a momento non si sono ancora viste queste trasformazioni mostruose della squadra dei Twins concludiamo con la American League West dove abbiamo i Los Angeles Angels of Anaheim primi con 6-4 perse la squadra dell'MVP Shuaio Tani e di Mike Trout sono partiti per una volta bene seguono gli Houston Astros che sono un'altra delle squadre che potrebbero assolutamente contendere quantomeno il pennant dell'American League ma sicuramente se la giocano per i playoff sorprendono gli Oakland Athletics che sono una squadra non dico derelita ma comunque una squadra che ha fatto una campagna acquisti incredibile incredibile in senso contrario perché hanno venduto tutti e sono terzi con 5-20 e 5 perse ex-equo con il Seattle Mariners squadra di tantissimo talento che tengo d'occhio alla stragrande ultimi sono i Texas Rangers che ne hanno vinte soltanto due nelle prime nove American League che è stata protagonista anche delle partite viste su Sky andiamo letteralmente in ordine di trasmissione Sky Sport trasmette due partite a settimana per quanto riguarda il meraviglioso gioco del baseball con commento in italiano di Pietro Niccolò di Danilo Freri Roberto Gotta e il mio conterraneo Michele Gallerani e hanno trasmesso partite evidentemente a un orario molto comodo italiano concentrandosi sull'American League Cleveland Guardians, Kansas City Royals è stata la prima partita dell'Opening Day la partita che tutti speravano no non è vero in realtà doveva esserci New York Yankees, Boston Red Sox in realtà la partita fu rimandata per pioggia e dunque Sky si è spostata di fatto al Kaufman Stadium con la partita tra Guardians e Royals fida all'interno dell'American League Central dove il vero motivo di interesse era Bobby Witt Jr. il prospetto numero uno della nazione per quanto riguarda il baseball americano Bobby Witt che ha fatto l'esordio che ci si aspettava ovvero la valida decisiva all'Opening per mettere i Kansas City Royals in vantaggio sui Cleveland Guardians e portare a casa la prima vittoria della stagione per 3 a 1 è stata la partita comunque molto interessante perché i partenti erano per i Royals Zach Granke che è tornato alle origini appunto al Kaufman Stadium e dall'altra parte c'era Shane Bieber Cy Young del 2020 vince Kansas City 3 a 1 non saranno due squadre che avranno tante ambizioni per i playoff ma comunque abbiamo visto una partita assolutamente interessante e di conseguenza l'Opening Day si è aperto con un bel motivo di interesse ovvero il prospetto Bobby Witt Jr. si è rimasti poi in American League ma in divisione East per vedere Tampa Bay Rays contro Baltimore Orioles quando dicevo che i Baltimore Orioles sono una squadra vera l'abbiamo visto in questa sfida perdono è vero ma perdono 5 a 3 contro i Tampa Bay Rays che sono una delle squadre ancora una volta che andranno evidentemente a contendere il titolo di American League sicuramente e chissà forse qualcosa di più Tampa Bay che ha perso Joey Wendell ma comunque ha i ricambi visto che hanno un farm system molto buono e un sistema manageriale veramente di livello Tampa Bay è riuscita a vincere 5 a 3 con un vantaggio di sicurezza appunto fino alla parte bassa del terzo rispingendo peraltro il ritorno dei Baltimore Orioles che hanno fatto due punti con un fuoricampo di Ryan Moncastle uno dei grandi prospetti dei Baltimore Orioles che per il futuro secondo me saranno una buonissima squadra hanno già messo nel roster Adrian Ruchman che è il numero 1 diciamo estratto al draft di 3 anni fa parliamo del 2019 il fuoricampo l'ha fatto Moncastle che è uno dei talenti della squadra del Maryland e poi non dimentichiamo che il go-to guy al momento è Cedric Mullins con appunto una grande qualità all'esterno centro difensiva ma anche una qualità offensiva l'anno scorso Mullins ha fatto 30 fuoricampo e 30 basi rubate che di certo non sono poco andiamo a Est sempre con i Boston Red Sox protagonisti questa volta però al Comerica Park anche qui abbiamo una squadra che non avrebbe molte ambizioni di playoff sulla carta ma anche qui è una squadra vera e parliamo dei Detroit Tigers che hanno fatto un percorso di rifondazione un percorso che sta portando dei frutti qui e lì e abbiamo visto evidentemente che anche i Tigers sono una squadra vera senza se e senza ma peraltro l'obiettivo di interesse al momento dei Tigers è far raggiungere a Miguel Cabrera le 3000 valide ne mancano pochissime e di conseguenza attenzione perché nel prossimo podcast della MLB celebreremo questo grande traguardo del Miguelon nazionale vince comunque Boston 5 a 3 con una seconda parte di match assolutamente a loro favore con due inning fondamentali la parte alta del sesto e la parte dell'ottavo con tutti i 5 punti per una squadra che sulla carta è superiore a Detroit una squadra che ha cambiato molto poco rispetto alla stagione scorsa e che potrà comunque recitare un ruolo da protagonista certo manca ancora Chris Sale infortunato per l'ennesima volta ma Boston è da tenere d'occhio ancora una volta ultima partita che ha trasmesso Sky parliamo della partita di ieri l'altro sabato di Pasqua è stata Tampa Bay Rays Chicago White Sox Tampa Bay Rays che perdono contro una squadra che tecnicamente secondo me è superiore come roster alla formazione della Florida è una partita comunque molto bella e molto tirata perché vincono i White Sox di Torino La Russa 3 a 2 la porta a casa Liam Hendricks con un inning molto interessante la vincono più che altro i rilievi dei White Sox che appunto da Reynaldo Lopez in giù fanno una grandiosa partita era una sfida molto interessante perché su Tampa c'era il partente Corey Kluber che ha avuto un passato negli Indias dove ha vinto il Sayang ha avuto un passato negli Yankees dove non ha fatto benissimo è andato a Tampa Bay ed è un uomo di esperienza che alla formazione di Kevin Cash può assolutamente servire Tampa Bay va in vantaggio subito 1 a 0 al primo inning poi arriva il super pepe di José Abreu per il 2 a 1 e alla fine il ponteggio si assessa sul 3 a 2 per una vittoria importante dei Chicago White Sox che hanno veramente tutte le carte regola per vincere sicuramente la divisione come dicevo prima anche qualcosa di più è successo un altro episodio particolare sempre in American League e poi passiamo alla National League e parliamo di quello che è successo nella sfida tra Texas Rangers e Los Angeles Angels con appunto Corey Seager protagonista Corey Seager ricordiamo che è andato ai Texas Rangers per una barca di soldi un contratto pluriannale lasciando i Los Angeles Dodgers vediamo dall'articolo che Corey Seager è stato diciamo mandato in base con una base ball intenzionale ma a basi piene succede che come dovrebbe essere appunto che se un giocatore evidentemente va in base per ball evidentemente a basi piene i corridori sono obbligati a correre a completare il giro delle basi e di conseguenza entra un punto automatico qui vediamo l'immagine appunto di Seager che viene appunto mandato in prima apposta e di conseguenza entra il punto del 4 a 2 senza neanche girare la mazza un'azione assolutamente non convenzionale mi verrebbe da dire tanto è vero che si è vista soltanto tre volte nella storia del baseball e l'ultimo precedente fu nel 2008 sempre con Joe Maddon protagonista allora allenatore dei Tampa Bay Rays il motivo per cui Joe Maddon ha volutamente messo in base intenzionale Seager a basi piene era per un motivo psicologico sul monte di lancio c'era un lanciatore destro per i Los Angeles Angels of Anaheim con il Seager è un battitore mancino è stato fatto bypassare il battitore mancino per fare in modo che il lanciatore avversario o meglio il lanciatore degli Angels affrontasse due battitori destri cosa che in realtà non ha portato in realtà i benefici sperati perché poi i Rangers metteranno altri due punti sul tabellone e di conseguenza parleremo di una vittoria per 6 a 2 ma è stato un gesto molto molto particolare vediamo appunto che gli altri due giocatori che furono messi in base intenzionalmente a basi piene furono Josh Hamilton nel 2008 e Barry Bonds leggendario giocatore di Pittsburgh e San Francisco Giants per quello si dice che Corey Seager ha ricevuto il Barry Bonds treatment passiamo adesso alla panoramica della National League con ancora una volta la partenza dalla National League East con appunto i New York Mets che sono primi con 7 vinte e 3 perse New York Mets che sono detti da tutti una delle grandi favorite non solo per i playoff ma per qualcosa di più io di difuso Mets non dico niente la partenza è di quelle incredibili con qualche sconfitta qui e lì una volta con Philadelphia una volta con gli Arizona Diamondbacks ma comunque 7 vinte e 3 perse una partenza clamorosa in questa opening week per una squadra che sulla carta come al solito è una signora squadra ma sappiamo bene come i New York Mets spesso hanno buttato via delle stagioni anche con delle squadre sulla carta forti ma comunque inferiori a questa National League East che si è espressa a essere comunque molto competitiva perché abbiamo i campioni in carica di Atlanta Braves che comunque fanno di tutto per contrastare questi New York Mets i New York Mets hanno al momento due partite e mezza di vantaggio ma sono partite veramente platoniche perché parliamo di record veramente inesistenti 5 vinte e 6 perse per i Braves sorprendono i Miami Marnes con 4 vinte e 5 perse che sono a pari merito con Philadelphia o meglio hanno una mezza partita di vantaggio su Philadelphia 4 vinte e 6 perse chi non sarà un fattore invece in questa divisione ma in generale nella Lega saranno i Washington Nationals che hanno smantellato la squadra e sono ultimi a 4 vinte e 7 perse National League Central sono primi i Central East Cardinals con 5 vinte e 3 perse secondi i Chicago Cubs con 5 vinte e 4 perse ex equo con i Pittsburgh Pirates 5 vinte e 4 perse i Milwaukee Brewers sono partiti piano 5 vinte e 5 perse chiudono i Sassanati Reds con 2 vinte e 8 perse partenza con il freno a mano tirato assolutamente per quanto riguarda la formazione dei Reds che l'anno scorso si giocava i playoff e quest'anno è partita veramente piano ma ripeto sono sempre le prime 10 partite è inutile fare giudizi immediatamente ultima divisione che andiamo a visionare è la National League West di cui parleremo perché c'è un episodio incredibile Los Angeles Dodgers San Francisco Giants ripartono dove avevano lasciato la stagione precedente con un primo posto ex equo per due squadre considerando incredibilmente battaglia per la prima posizione della divisione e di conseguenza per il miglior seed nei playoff 7 vinte e 2 perse appunto per entrambe le squadre della California dietro abbiamo il Colorado Rockies che sono partiti bene sono 6 vinte e 3 perse San Diego è partita anche qui col freno a mano tirato 6 vinte e 5 perse San Diego peraltro ha messo in lista infortuni faranno da Tatis nonostante quindi il talento incredibile che a di questa San Diego San Diego non se la sta ancora giocando con le squadre più titolate ma ripeto c'è ancora tempo ultimi sono i Arizona Diamondbacks che si giocano di fatto la palma di peggio squadra della Lega con i sensinati Reds e i Texas Rangers con 3 vinte e 6 perse l'episodio tanto discusso e tanto incredibile che vi citavo poco fa riguarda i Los Angeles Dodgers riguarda Clayton Kershaw che pronti via è partita con la sua solita giornata in ufficio con 7 inning immacolati 7 inning perfetti che erano veramente in proiezione perfect game per chi non conoscesse il gioco del baseball il perfect game è una prestazione da parte del lanciatore che non consente per nessun tipo di motivo quindi base ball errori scelte difesa di far arrivare qualunque corridore fino al cuscino di prima base 7 inning immacolati perfetti di Clayton Kershaw dicevamo l'allenatore Dave Roberts sostituisce Clayton Kershaw e qui si è scattinato il putiferio in generale sia tra gli addetti ai lavori sia anche tra i tifosi perché non si è praticamente mai visto il fatto che un lanciatore venisse sostituito con appunto un perfect game in ballo perfect game peraltro è anche caduto dopo è capitato magari spesso che ci fosse una situazione di perfect game o no hit magari in essere e il lanciatore venisse sostituito quando aveva preso la prima valida qui invece è stata fatta una scelta conservativa da parte dell'allenatore Dave Roberts Clayton Kershaw ha risposto frasi di circostanza e che andiamo direttamente a vedere partita che peraltro i Los Angeles oggi hanno stravinto contro i Minnesota Twins che appunto come dicevamo sono partiti veramente veramente male le dichiarazioni di Kershaw sono di circostanza perché comunque vengono di fatto definite le scelte di Dave Roberts come giuste perché comunque siamo a inizio stagione è inutile sforzare tanti lanciatori e tutto quello che volete Kershaw ha anche aggiunto che sono record individuali quando in realtà il baseball è uno sport di squadra e i Dodgers sono una squadra che puntano a vincere e di conseguenza era più importante la squadra che i record individuali è un'affermazione appunto di circostanza perché ci sono rari momenti del baseball che sono così tanto individualisti e la no hit e il perfect game rientrano assolutamente tra questi ripeto si è visto tante volte un lanciatore in perfect game o in no hit lasciato fino alla fine e sostituito quando ha preso la prima valida dell'incontro qui invece è una situazione molto particolare io onestamente da tifoso non sono d'accordo avrei tenuto Kershaw e l'avrei cambiato con una valida acquisita cambiarlo in perfect game è qualcosa di molto particolare anche perché Kershaw aveva fatto 13 strike out con 80 lanci quindi poteva sicuramente arrivare almeno all'ottavo e al nono poi magari la valida l'avrebbe presa lo stesso però cambiarlo in questa situazione secondo me è abbastanza particolare comunque Dave Roberts anche qui si dimostra anche qui un recidivo come Joe Maddon nella situazione precedente perché l'ultima volta che successe un cambio in perfect game attivo senza appunto aver incassato la prima valida nella sostituzione fu con Rich Hill nel 2016 Rich Hill lanciava all'epoca nei Los Angeles Dodgers e il manager dei Los Angeles Dodgers era sempre Dave Roberts scelta molto particolare comunque abbiamo capito che anche per quanto riguarda la prima parte della stagione la opening week tante cose sono successe nel mio video gioco del baseball ed era giusto fare il podcast di presentazione un podcast che termina qui e vi ricordo che tornerà evidentemente ogni inizio del mese ci sarà il monthly MLB per vedere quello che è successo nei vari mesi in attesa che i giochi veri e propri si facciano seri ovvero dallo star game in avanti questi saranno match di assaggio match di confidenza per la nuova stagione comunque è già partita e ha regalato tanti spunti di interesse seppur solo in 10 partite fatevi vedere cosa ne pensate dunque di questo podcast della MLB come sta andando secondo voi la vostra squadra del cuore il saluto da parte di meteo torgard ci vediamo lunedì prossimo il 25 aprile per un grande vlog dal gp di imola in una settimana che sarà ricca di eventi sportivi tra playoff line e cell motori e ovviamente anche il meraviglioso gioco del baseball e